è la Kia Carens poi c'è anche da aggiungere che fuori dal salone io adesso di preciso non so dove però abbiamo anche le auto che sono a disposizione per dei fast drive che sono però non disponibili da oggi comunque sappiate che se volete venire qua provare le auto il concessionario sarà ventodice di farvi provare tutte le mezzone che ha la distribuzione della gamma Kia per dei fast drive con personalità di prove su strada delle proprie prove su strada di proprie di proprie di proprie di proprie di proprie